Scusate Cosa faceva gli eroni ce l'ha mai stata? Anche se qualcuno pecca, non lo facciamo. Fitto! Che fitto di porca spariamo! Appagna lupa! I cani abbaiano, i cinghiali no. I cristiani hanno due gambe, i cinghiali no. I cani non sono da abbattere. Sono protetti ancora. Vi guardate in mano e vedete un fucile, o anche la carabina. Tirate al colpo sicuro, non sparate così tanto per. Non se ne fa niente. Siamo pronti Supremo? Siamo prontissimi! Che squadra genius chissà! Guarda, guarda il costruzzo qui, guarda. Immagino che il cartello è quello che ha fatto. Il troppo ha fatto solo di ripetere. Chi fa sono guardare a sottisciare. Che si è? Che cosa farebbe? Oh no Sì, 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 sì. Sì bravo 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 io do tiro C'è l'apugio? Ah, che buono! A figlia mia! A figlia mia! E siamo a due ragazzi! Siamo a due! A qua due! Sì, ti bagno, dai! Minchia, bello! Hai se c'è la vista? Vediamo questa! Madonna mia! Una e due! Ciacchino! 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 E tu già stai registrando sulla? Ah! Angesco dove è stato beccato questo? Qua! Qua! Alla proprio... Proprio da ciacchino eh! Anche se sia totale abbiamo fatto questo! Proprio da ciacchino! Oh! Salutiamo Paolo o andiamo via? 75! Oh, ciò! Cominiamo da ciò! Guarda! Go! Oh! Novanta! Grazie.